Tutti pazzi per i fumetti al Centro Convegni Sant'Agostino di Cortona, la seconda edizione di Cortona Comics. Beh, bellissimo, è fantastico, io amo le fiere del fumetto, amo i fumetti e quindi è un sogno che la mia città di Cortona, una città che io adoro, il posto dove sono cresciuta, ha finalmente la sua fiera del fumetto con il Cortona Comics. Non ci potevo essere l'anno scorso, quindi sono più che felice di poter far presenza quest'anno e vedere la mia città coperta di bellissimi disegni. Teresa Cherubini, la figlia di Lorenzo Cherubini, giovanotti nella sua Cortona per la seconda edizione di Cortona Comics. La giovane disegnatrice, che ha già al suo attivo diversi lavori, terrà un workshop di disegno per bambini e intanto si gode i lavori degli artisti in mostra. Il primo progetto importante, ho fatto il libro insieme a mio padre, La luce nei tuoi occhi, che era il libro di fotografie che è uscito per il Jova Beach, ho fatto un'introduzione a fumetti per quel progetto lì, poi dopo ho lavorato per Panini con un fantastico progetto insieme alle associazioni dei donatori del sangue, l'Avis, il CNS, tutto quel mondo lì, per sensibilizzare le persone a donare il sangue, questo è uscito a Lucca. E poi di recente è uscito un progetto di collaborazione con Cristina Tardito, Cristina T, che è un brand di Torino, e lì ho fatto un fumetto dove ho illustrato le ragazze che si vestono nei vestiti meravigliosi che ha disegnato Cristina, quello è uscito qualche settimana fa, e settimana scorsa, il 14, invece, è uscita una mia copertina per Salani, per un romanzo francese che si chiama Il sangue della città. In questa edizione, che si chiuderà il prossimo fine settimana e sarà dedicata, in quel caso, ai supereroi, avrà nel mezzo l'atteso concerto di Achille Lauro, Alfa e Clara. Il premio alla carriera andrà Fabio Celoni, collaboratore delle più importanti case editrici, una su tutte, la Disney. Qual è, secondo lei, appunto il segreto di personaggi come questo che riescono ad attraversare, insomma, gli anni, le generazioni, non essere mai banali? E questo è un po' una magia di Disney, perché hanno una forza questi personaggi, Topolino, Paperino, Paperone e via dicendo, che pochi o quasi nessun altro personaggio ha nella storia. Pensiamo al Paperone di Karl Barks, che è un personaggio potentissimo, o Topolino, o Paperino stesso, sono personaggi immortali che possono essere traslati in qualsiasi contesto, quindi indossare qualsiasi abito o parodiare qualsiasi storia e rimangono sempre loro, perché hanno delle caratteristiche molto importanti a livello proprio di costruzione del personaggio. Sono diventate delle icone. Qual è l'emozione di far nascere un personaggio dalle proprie mani? È la stessa emozione che hai da bambino, quando lo fai a sei anni e disegni per la pura gioia di disegnare. La cosa bella di questo lavoro è mantenere quella gioia e riuscire ancora a trasponderla nei tuoi disegni e credo che questa cosa, quando è sincera, arriva anche a chi quei disegni li legge.